In un santuario completamente ristrutturato, Santa Maria delle Vertighe a Monte San Zavino, la Santa Messa del 14 agosto ha visto la presenza del Vescovo di Arezzo, Andrea Miglia Vacca. Prima ancora l'immagine mariana della patrona dell'autostrada del Sole era stata portata in processione dal santuario all'entrata della A1 di Monte San Zavino, qui poi la benedizione del Vescovo rivolta alla comunità e all'autostrada stessa. Un momento di fede e di tradizione popolare che anche quest'anno ha visto la presenza di numerosi fedeli. Aveo Maria, piena di grazia al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno Gesù.